Ma chiaramente è una vigilia importantissima, ma io da allenatore le vivo tutte abbastanza nello stesso modo. Chiaramente domani sappiamo che è una partita una delle più importanti nella storia ultracentenaria dell'Inter, quindi sappiamo l'importanza della partita, quello che riveste per noi stessi, per la nostra società, per i nostri tifosi, quindi la dobbiamo interpretare nel migliore dei modi. Sappiamo che abbiamo un vantaggio, un meritato vantaggio. Sapete quello che può fare Lukaku, io da allenatore chiaramente avevo riportato Lukaku qua con l'entusiasmo per vederlo come l'abbiamo visto nell'ultimo mese e questo Lukaku è quello che ci avrebbe dovuto dare tutto l'anno. Purtroppo è successo un imprevisto sia per lui che per Brozovic, non preventivato, che ci hanno tolto due elementi per noi indispensabili per cinque mesi e la squadra ha dovuto soffrire senza di loro.